Musica Parliamo oggi di animali domestici, un argomento molto diffuso e che tocca vari aspetti. Quando il nostro animale provoca un danno a terzi, cosa possiamo fare e come possiamo tutelarci? Musica Parliamo di un argomento, riteniamo di interesse assai rilevante, ossia l'universo degli animali, gli animali domestici, gli animali da compagnia, che sempre in numero maggiore riempiono le case degli italiani. Quello degli animali è un settore che ha grande rilevanza legale e non sempre tutti i possessori di un animale conoscono anche soltanto in maniera generale e pratica quelli che sono i risvolti di assoluta importanza per loro in relazione appunto al possesso dell'animale. Sarà necessario anche dedicare forse anche un'altra puntata a questo argomento perché è davvero di vasta rilevanza. A quest'oggi parliamo in maniera sintetica di quello che può accadere in caso di danni cagionati dai nostri animali domestici. Allora, il nostro codice civile dedica un articolo in particolare che è il 2052 a responsabilità per i danni cagionati da animali e è uno di quegli articoli che fa riferimento al cosiddetto concetto di responsabilità oggettiva. Cosa vuol dire? Detto in soldoni vuol dire che quando i nostri animali provocano un danno a un terzo c'è poco da fare, il proprietario ne deve rispondere, ma cosa vuol dire più nello specifico? Si tratta di una responsabilità che la legge definisce presunta, ossia non è fondata su una qualche colpa che noi poniamo in essere, su un qualche nostro comportamento sbagliato, ma si fonda sul mero rapporto di fatto che noi abbiamo con l'animale, cioè l'animale è nostro, lo abbiamo in custodia noi, rispondiamo noi dei danni che cagiona. C'è un solo caso in cui questo concetto giuridico, questo meccanismo giuridico può venire meno ed è il caso in cui si verifica il cosiddetto caso fortuito, ossia nel caso in cui un fattore del tutto eccezionale, imprevedibile e assolutamente inevitabile, giunge a spezzare questo meccanismo di causalità tra quello che ha combinato il nostro animale e la nostra persona. Il caso di scuola abbastanza famoso è il fulmine che viene a far spaventare, a far ibizzarrire il cavallo che scappa dal proprio recinto e combina i danni più disparati. È chiaro che in quel caso, in quell'evenienza, il caso fortuito è abbastanza evidente e può anche venire meno la responsabilità del proprietario, ma come possiamo capire si tratta di un evento abbastanza eccezionale. Che cosa dobbiamo dire in maniera anche più precisa? Che la responsabilità per il danno cagionato al terzo dall'animale non investe soltanto il proprietario, ma può colpire anche la persona alla quale l'animale in quel momento era stato affidato o lo aveva in custodia. Questo cosa vuol dire? Che se io ricevo un animale da un mio amico che è via per le vacanze e mi impegno a custodirglielo, a tenerglielo anche così in via amichevole, se l'animale in questione causerà un danno, farà cadere una persona o romperà un oggetto, la responsabilità sarà mia che avevo in custodia questo animale. Lo stesso discorso si può fare anche per il dog sitter, che ovviamente avrà le proprie tutele in virtù del contratto che stipula col proprietario, però il meccanismo giuridico è lo stesso. Quindi in buona sostanza, quando noi abbiamo l'intestazione, perché ormai è così che funziona, di un animale domestico, dobbiamo ricordarci che qualunque danno, qualunque problematica causerà il nostro animale, sarà riconducibile a noi e sarà da noi risarcibile. L'obbligo di risarcimento sarà nostro, di noi proprietari e di chi eventualmente aveva l'animale in quel momento in custodia. Quindi il consiglio qual è? Prima di tutto è di stipulare sicuramente una polizza di assicurazione adeguata, quindi non estremamente costosa, comunque adeguata a riferimento all'animale che possediamo e quindi cercare poi di usare tutte le cautele possibili in relazione dell'animale che abbiamo con noi. Esiste anche un altro aspetto che può riguardare la condotta, la convivenza di un animale con noi nei nostri appartamenti, che è anche quello delle cosiddette molestie. Non dimentichiamoci che non è necessario che un animale rompa qualcosa, faccia del male a qualcuno, ma se si tratta di un animale molto rumoroso, il caso specifico, il caso più evidente è quello del cane che abbaia, saremo sempre comunque noi proprietari responsabili delle molestie, ovviamente devono essere dimostrate, che tutti gli altri condomini o gli altri nostri vicini possono subire da questa situazione. Un'ultima notazione di carattere un pochettino più specifico, questo discorso che abbiamo fatto riguarda gli animali domestici, per quanto riguarda gli animali randagi, quelli selvaggi che possono causare, spesso e volentieri causano purtroppo degli incidenti stradali, mentre nel caso degli animali domestici il discorso sarà il medesimo, perché se il nostro cane scappa in mezzo alla strada e causa un incidente, la colpa è nostra, per gli animali randagi e quelli selvaggi la giurisprudenza da diverso tempo ha ricondotto la responsabilità alle amministrazioni pubbliche, di volta in volta comunali, provinciali o regionali, o anche alle ASL che hanno il compito specifico, ormai per legge regionale o legge speciale, di occuparsi delle specie selvagge o comunque randage e di cercare di limitare in tutti i casi, in ogni modo il randagismo e le eventuali conseguenze dannose. Quindi il consiglio è appunto di gestire il nostro animale con ogni cautela, ricordandoci che qualunque problematica a lui causata sarà un danno che noi dovremo risarcire e soprattutto dotarsi, io credo, di una opportuna polizia di assicurazione. Ci sono arrivate molte domande da telespettatori che non sanno che valore abbia la firma posta su un documento ricevuto dal datore di lavoro. Abbiamo chiesto all'Avvocato Pollastro di chiarirci le idee. Buona giornata a tutti. In queste mie chiacchierate oggi voglio affrontare un argomento che è assolutamente ricorrente, una serie di dubbi che sono ricorrenti, soprattutto nei lavoratori. Allora, quando alla fine del mese viene consegnato il listino retributivo o alla fine di un rapporto di lavoro viene consegnato il prospetto delle competenze di fine rapporto, il datore di lavoro chiede che venga sottoscritto il documento e magari c'è una frase in cui si dice il lavoratore dichiara con questo di avere verificato, controllato, verificato che sia tutto giusto, bello, fatto, corretto e quindi dichiara di rinunciare a qualsiasi contestazione, di essere assolutamente soddisfatto di quello che è stato indicato, percepito, fin d'ora dichiarando di rinunciare a qualsiasi ricorso, contestazione e quant'altro. Allora, attenzione, da decenni la giurisprudenza, cioè quindi le sentenze, in maniera assolutamente conforme, qualcuno dice, i giuristi dicono in modo monolitico, dicono che quelle firme non hanno alcun valore di rinuncia, alcun valore di rinuncia, costituiscono le firme fatte sotto le buste paga, sotto il prospetto del conteggio della liquidazione, delle competenze di fine rapporto e quant'altro, valgono solo come documento di ricevuta. È come se io ricevesse una raccomandata e io firmo di aver ricevuto la raccomandata. Dichiaro di averla ricevuta, ma non dichiaro mica che sono d'accordo con quello che c'è dentro. Quindi le firme di quietanza valgono solo come firma di ricevuta. E però c'è un problema. Perché se valgono come firma di ricevuta, mi permetto di assegnalare che se io firmo una busta paga, in cui c'è scritto, non so, 1500 Euro, ma succede a volte che vengono date, magari soprattutto sulle competenze di fine rapporto, le liquidazioni che sono somme anche corpose, viene dato il prospetto, ma non vengono date tutte le somme, viene dato magari una parte, il resto a rate. Se io firmo per ricevuta, il rischio è che poi venga interpretato nel senso che posso contestare quella somma, è vero, ma quella somma intanto l'ho presa. Facciamo una busta con su scritto 3000 Euro. 3000 Euro, se io firmo per ricevuta, è chiaro che rischio di non solo aver ricevuto il pezzo di carta, ma aver ricevuto i 3000, poi dirò magari 3000 non sono sufficienti, ce ne volevano, doveva essere 3000 e 5000, ma intanto 3000 l'ho preso. Allora, un principio di fondo, che quando esiste un documento, un modulo, qualsiasi cosa, un contratto anche scritto, qualsiasi cosa scritta a computer, a macchina, quello che volete, se io inserisco degli elementi a penna, a mano, valgono, valgono di più, valgono quelli scritti a mano, e allora bisogna scrivere in due parole, due parole, per ricevuta della busta, ricevuti, c'erano 1000 Euro in contanti, 500 Euro in contanto, il resto siamo d'accordo che venga pagato a rate, magari anche non scrivere questo, ma dire esattamente quello che è successo, per cui se io ricevo una busta, scrivo per ricevuta della busta, firma e data, per ricevuta di Euro 1000, firma e data, qualcuno usa l'espressione con riserva, di solito la parola con riserva, cosa vuol dire? Con riserva, se hai ricevuto, hai ricevuto, se non hai ricevuto, non hai ricevuto, a me non piace la parola con riserva, la capisco poco cosa voglia dire con riserva, riserva di che cosa? Se io mi dà la busta e paga, io dico, per ricevuta della busta, i soldi seguiranno, vuol dire, dichiaro d'avere ricevuta quella cosa lì, esattamente, quando mi arrivo al postino, mi porto la raccomandata, io firmo la ricevuta della busta, allora, io consiglio sempre, mettere per ricevuta, per ricevuta del documento, la firma e la data, e se ci sono anche pagamenti di soldi, per ricevuta di euro, la cifra che è stata ricevuta, dopodiché, eventualmente, ci saranno il resto, ma si può anche non scrivere, poi ci hanno rate, si può anche non scrivere, l'importante è definire, a mano, con una firma sotto, e con una data, cosa è effettivamente successo. punto, e basta. Altre espressioni, rischiano di essere inutili, e a volte anche pericolose. Grazie. Per oggi abbiamo terminato, vi ricordo di iscriverci, avvocati rispondono, chioccioleilcomizio.it Noi ci rivediamo la prossima puntata. a a Grazie a tutti.